Luca Donadel, come sapete, ha fatto per noi, un videoblogger, ha scritto per noi un servizio in cui ha fatto vedere come molte navi erano a ridosso della Libia, cosa che non mi sembra sia stata smentita. E così, Greta? Non è stata smentita, ma Luca Donadel per questo video che è online ha raggiunto più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni è stato attaccato in questi ultimi giorni anche da alcuni quotidiani, è stato attaccato dal fatto quotidiano, dall'avvenire, dal manifesto, dall'unità che l'ha definito una bufala. Lui risponde, con un video in esclusiva per Matiz, risponde così alle accuse. È notizia di questi giorni la polemica fra il vicepresidente della Camera dei Deputati, Luigi Di Maio, e le ONG che operano nel Mediterraneo a favore dei migranti che si imbarcano sulle coste libiche. Vorrei esprimere alcune considerazioni a questo proposito, dal momento che un po' di merito per aver portato questa notizia all'attenzione dei media mi sento di poterlo assumere. Il 6 marzo di quest'anno rilanciavano una denuncia del sito olandese Gefira e dell'agenzia Frontex, chiedendo come mai maestro e media non parlavano di questi fatti. Anzi, facevano palese disinformazione, sia dislocando i salvataggi nel canale di Sicilia, sia non dicendo che le navi dell'ONG aspettavano i migranti a poche miglia dalle coste libiche, per poi sbarcare disperati nei nostri porti, e non in Tunisia o a Malta molto più vicini. E tra gli ambienti di sinistra e cattolici, scandalo e obbrobrio per aver osato mettere in dubbio la buona fede delle ONG, soprattutto da il manifesto che ha attaccato ripetutamente sia me che strisciano notizia, avvenire quotidiano dei vescovi e l'unità organo del PD. Per non dare visibilità a editorialisti che non raggiungono neanche centinaia di persone, ho lasciato che a rispondere alle critiche più accese e a volte agli insulti fossero i miei followers, che ho trovato pronti e preparati sull'argomento e che ringrazio. Ma ora che la vicenda ha preso i contorni che merita, alcune considerazioni mi sento di farle. Come giusto che sia, sarà la magistratura dare giudizi di liceità a codesto operazioni. Ma nessuno può pensare di dire agli italiani falsità o impedire di farsi un'idea precisa di cosa succede a casa nostra. Perché non mi sembra giusto che poi solo l'Italia, per il trattato di Dublino, debba farsi carico di tutti i profughi portati da navi maltesi, spagnole, tedesche, francesi, eccetera. Finalmente la magistratura ha confermato di avere prove di contatti fra queste organizzazioni e chi gestisce le partenze. E già ora si parla di ONG buone e ONG sospette. Analizzando il meccanismo dell'informazione che ruota attorno a questa vicenda, mi sono convinto che il pubblico le notizie le va ad approfondire sul web. Questo è il trend del futuro. Siamo di fronte alla rivoluzione luterana dell'informazione. Non c'è più bisogno dell'intermediario che fornisce commenti alle notizie da grandi piattaforme media. Per informarsi il rapporto con gli eventi è possibile gestirlo autonomamente con internet. L'esempio dei migranti fa scuola. Il giornalista mainstream è legato a termine e condizioni dettate dalla Carta di Roma, che allontanano il pubblico perché sente che l'approccio è artefatto e non completamente veritiero. Vogliamo fare un altro esempio? Ogni volta che viene rapito e rilasciato un connazionale, gli organi di informazione tengono a precisare che non è stato pagato alcun riscatto, cosa a cui non crede nessuno, e che ha l'unico scopo di screditare il portavoce che disinforma scientemente con tanti saluti e la deontologia. Tornando all'incipit, se ora i politici battagliano sui temi dell'immigrazione irregolare, è giusto che così sia perché è un tema popolare e non populista. E i temi popolari in una democrazia devono far parte dell'agenda politica.